Diego Bianchi di nuovo in Rai con un nuovo programma, Gazebo, per raccontare la politica italiana in uno dei suoi momenti più complicati. Sì, raccontare appunto, uno prima di raccontare dovrebbe capirci qualcosa. Ci proveremo, proveremo a fare delle domande che al momento sembrerebbero senza risposta, a farle tra di noi, a farle a chi verrà da noi, attraverso le cose che filmo, i video che faccio, le cose che incontro. Insomma, in campagna elettorale ne abbiamo viste parecchie, quindi avendo incontrato vincitori, sconfitti, scomparsi, un po' di tutto, ora cercheremo un attimo di mettere insieme i pezzi, che in questo momento sembrano abbastanza sparpagliati. Il pezzo PD come lo vedi? Eh, il pezzo PD, come se, come senti, ha una campana, non è una campana morta, come direbbe Grillo, però insomma, comunque, il pezzo PD sempre lacerato, sempre, mai una gioia, verrebbe da dire in questi casi, soprattutto in questo caso, perché è oggettivo che si pensava di essere in ben altro, di avere ben altro spirito in questo momento, no? E si è visto, insomma, Bersani alla conferenza stampa, non è mai stato lui un esuberante, però in quel momento si è visto tutto il peso di quello che era successo e che probabilmente, che nessuno si aspettava, soprattutto lui. Nei tuoi giri, per preparare il programma, ti sarai fatto un'idea di quale può essere stato l'errore più grande del PD? L'errore più grande del PD è stato, non so, ora non è, in questo caso le vagonate di Senno De Poi, che dice Bersani, sono sempre un po' stucchevoli, però a un certo punto bisognerà pure farla, la famosa analisi della sconfitta. Ora non ho elementi per individuare subito i motivi, posso dire che, certamente, dire che questo eccesso di responsabilità, che è pure una cosa giusta, per carità non la sto criticando, però in campagna elettorale non è una cosa che paga, quindi dire, qualora dovessimo prendere il 51%, ci comporteremo come col 49%, quindi lasciando un margine di possibilità a quello che tutti chiamano, l'inciucio, con Monti, ecco, quello sicuramente, secondo me, è stata una cosa che non ha pagato. E poi, vabbè, la vicenda del Monte dei Paschi di Siena, capitata in piena campagna elettorale, anche quella è stata una bella zavorra, insomma, ora al di là del merito, ma mediaticamente l'è sicuramente stata. Poi ci sono alcune scelte discutibili, proprio di comunicazione, insomma, diciamo che un militante classico, tradizionale, mai avrebbe pensato di chiudere la campagna elettorale all'Ambraiovinelli, mentre a Piazza San Giovanni, che è una piazza tua, ci sono 800.000 persone di un altro partito, di un altro movimento, insomma, sono situazioni che spiazzano un po'. Non è per questo che si è persa le azioni, però tutto aiuta, insomma, no? Ci sei stato tra questi 800.000? Ti sei fatto un'idea? Sì, sono stato tra quegli 800.000, sono stato anche tra altre migliaia in giro per l'Italia, da Parma, la Vittoria di Parma, in Sicilia, e quest'anno anche durante la campagna elettorale al Sud. A me sono fatte tante idee, sono il primo partito d'Italia, quindi come tali vanno trattati, insomma, tanto chi li ha votati, quindi ovviamente massimo rispetto, anche perché tanti elettori di Grillo sono tanti elettori di sinistra delusi, proprio li conosco personalmente senza fare telefonate, insomma, amici. Ecco, e poi dal punto di vista della responsabilità, però, inevitabilmente, adesso qualcosa dovranno fare, perché adesso nella scatola di tonno ci sono pure loro dentro, no? Quindi per aprirla bisogna fare qualcosa, insomma, non basta più dirlo, ma bisogna farlo. E per farlo bisogna prendersi delle responsabilità e seguire quelle due, tre regolette che ancora tengono in piedi la democrazia in questo paese, no? C'è un Parlamento, quelle cose lì. Ultima domanda, come vedi il governissimo che molti rumoreggiano PD, PDL? Eh, lo vedo molto male, nel senso che il momento in cui io capisco tutto, la responsabilità, la gravità del momento, insomma, il PD, ecco, l'ho detto prima, se vuoi ha anche pagato questo eccesso di responsabilità. E penso che in questo momento, per come siamo messi, nel momento in cui il PD dovesse toccare il Giacuaro, finirebbe un minuto dopo. E quindi ne penso male, ne penso tutto il male possibile. Chiusura, ci credi nella carta Renzi? Beh, la carta Renzi era una carta giocabile anche prima di queste elezioni. Ci sono state delle primarie che Renzi ha perso, e questo è un dato di fatto. Poi i motivi possono essere mille, però, se vuoi, ridiscutiamo nelle primarie. Questo può essere una soluzione, può essere un'idea. Ci credo, sicuramente è una carta da spendere. Non sono di quelli che dicono, eh, però, Correnzi, perché non lo so. Diciamo, la controprova non c'è. Sarebbe stato sicuramente un altro risultato, sicuramente in un altro scenario. Non è detto che sarebbe stato sicuramente migliore, non lo so. Questo è un'idea. Grazie.